Allora, buongiorno, grazie di essere qui. Io sono Stefano Menichini, il direttore di Europa. Questa è un'iniziativa del gruppo parlamentare del Partito Democratico, a 60 anni dalla morte di Alcide De Gasperi. E io, diciamo, in questo contesto mi limiterò a buttare qualche pallone in campo, perché le persone che sono state invitate qui a discutere hanno tutte una grande competenza, a partire da Flavia Piccoli Nardelli, che oltre a essere adesso deputata del PD, ha diretto per molti anni l'Istituto Sturzo. E Paolo Pombeni, che è, diciamo, sotto il profilo accademico, è sicuramente, probabilmente, diciamo, una principale autorità in materia di De Gasperi, ma poi è anche un politologo e un collega, mi azzarderei a dire, commentatore per il messaggero, per Luigi Castagnetti. Non ho bisogno di presentarvelo. Miguel Gotor, che anche lui, diciamo così, prima di fare politica attiva, e anzi, mentre anche la fa, è comunque principalmente uno storico. Quindi, insomma, il panel è molto forte e rappresentativo. Roberto Speranza, che ha una giornata complicata e che avrebbe dovuto fare le conclusioni di questa nostra discussione, magari interviene appena vede, diciamo, il tempo giusto. Io, veramente soltanto in termini di, appunto, di spunto, di proposta, di discussione, De Gasperi è stato, anche negli ultimi anni, ma, insomma, in tutto l'arco, dopo la sua scomparsa, spesso riproposto alla discussione pubblica in termini corretti, diciamo, dal punto di vista storiografico e politico, e qualche volta in termini anche molto forzati. Questo è soprattutto quello che è accaduto negli ultimi vent'anni, su tantissimi possibili punti di rivendicazione della sua eredità, sui temi della contrapposizione del dopoguerra, eccetera, eccetera. Però, indubbiamente, la sua figura più spesso e correttamente viene ricordata come legata alla grandissima stagione della costruzione dell'unità europea nel dopoguerra. Quello che, diciamo, è stato, penso, nella vulgata, poi raccontato come una epoca felice e che magari adesso, un po' pigramente, potremmo, invece, accostare a una stagione di crisi della costruzione, della narrazione dell'Europa unita. In realtà, quelli che conoscono più da vicino, ecco Miguel, quelli che conoscono più da vicino questa storia, e questo mi sembra il punto interessante da cui potremmo partire, sanno che, anche, forse, soprattutto ai tempi di De Gasperi, la costruzione europea è stata un durissimo conflitto politico, molto aspro, con dei termini anche che potremmo, andandoli a rivedere, e forse stamattina lo faremo, in cui potremmo anche rintracciare molti elementi di grande attualità. Tanto fu un conflitto politico che De Gasperi lo ha perso, nel senso che, diciamo, accanto e dopo, diciamo, tutta quanta la fase della costruzione, della CECA, eccetera, sul punto, per lui, nodale della Comunità Europea di Difesa, intorno alla quale doveva costruirsi, poi, diciamo così, doveva essere il nocciolo intorno al cui si costruiva l'unità politica, che era la vera posta in palio, fin da allora del processo europeista, come sappiamo, è rimasto non incompiuto, è rimasto troncato da una sconfitta politica. Ora, in questi giorni, in cui ci sembra di aver di fronte un dato disastroso dello scontro politico a livello continentale e anche italiano, intorno ai temi e alle prospettive dell'unità politica dell'Europa, forse non è inutile andare a rivedere i termini di quel conflitto e forse questo, non dico che ci solleva o che sdrammatizza l'attualità, però ci ricorda che non c'è mai nulla che è stato dato per acquisito una volta per sempre, che non ci sono epoche auree, che la crisi e lo scontro politico sono una costante di questa vicenda e questo forse ci dà degli strumenti di conoscenza, di consapevolezza e degli strumenti anche di lotta politica come è necessario che sia in questi giorni di campagna elettorale e nella prospettiva dei prossimi mesi in cui l'Italia avrà nel contesto europeo un ruolo particolarmente importante. Io questa palla innanzitutto la passerei a Paolo Bombeni. Come appunto ha giustamente detto il direttore Menichini non esistono momenti aurei, però certamente il momento che ha vissuto De Gasperi in questa fase specifica, perché poi la vita di De Gasperi è molto lunga, De Gasperi è nato nel 1981 quindi era passato proprio fisicamente attraverso la storia d'Europa. Credo che questo sia un dato importante che spesse volte viene parzialmente sottovalutato o ridotto a un aspetto folcloristico ma pensate questo è un uomo che comincia come suddito parte dell'impero asburgico, è parlamentare a Vienna è parlamentare a Vienna durante il dramma della guerra per quel tanto che il Parlamento è potuto funzionare dovuto in ultima parte, quindi è testimone della dissoluzione di quello che era stato a livello europeo l'ultimo grande impero multietnico di altri imperi multietnici, la Russia e l'impero ottomano non sono due imperi europei ovviamente, avevano problematiche un pelo diverse. Quindi l'impero asburgico era un impero fra virgolette europeo nel senso che si era illuso e per molti anni aveva anche realizzato una forma di integrazione basata proprio su un fattore di tipo culturale non su un fattore di tipo linguistico. L'impero asburgico parlava molte lingue, non aveva una lingua ufficiale o meglio quando viene introdotto il tedesco come lingua ufficiale della burocrazia questo diventa un elemento di disgregazione più che un elemento di unificazione e nonostante il fatto di essere partecipe, diciamo così grosso modo di questo ambito culturale che si era sviluppato in Europa fra il XIV e XVIII secolo sembrava renderlo adatto a sopravvivere nonostante questa forma, diciamo così, multietnica piuttosto complicata. Poi De Gasperi aveva vissuto, come sapete tutti, l'inserzione nello Stato nazionale italiano che non era uno Stato multietnico ma che aveva molti problemi di unità al suo interno e aveva visto come il fascismo aveva potuto sopravvivere e prosperare grazie a una campagna fortemente populista e quindi era arrivato all'esperienza post 1945 con questa grossissima competenza, vorrei dire, esperienziale. Questo è un fatto che lo distingue abbastanza fortemente dal resto della classe politica italiana che era o una classe politica molto più giovane e quindi che per ragioni di età non aveva avuto questo tipo di esperienza o una classe politica che, diciamo così, aveva vissuto, fra virgolette, un po' più ai margini questa vicenda perché si trattava di uomini che avevano fatto parte di formazioni, diciamo così, di opposizione che poi hanno vissuto nell'esilio quindi in una certa misura nella marginalità. De Gasperi si pone il problema dell'Europa come un problema poco romantico è molto concreto De Gasperi non era un uomo particolarmente romantico anzi non lo era per nulla tutte le testimonianze che abbiamo su di lui ce lo descrivono come un uomo piuttosto chiuso insomma, no? Come si dice alle nostre parti, un trentino quindi una persona riservata che non amava, diciamo così, esporre i suoi sentimenti in pubblico non ha lasciato diari, non ci sono memorie non ci sono confidenze questo aspetto che spesso e volte caratterizza l'uomo politico quindi questo rende anche difficile interpretarlo però noi sappiamo abbastanza della sua azione per capire qual è il suo approccio il suo approccio è un approccio duplice il primo approccio è un approccio che riguarda il suo paese cioè l'Italia è l'idea che l'Italia non può risorgere se non all'interno di un contesto più vasto l'Italia è un paese sconfitto nonostante quello che si pensava De Gasperi era uno dei pochi amaramente consapevoli del fatto che la resistenza non sarebbe stata sufficiente per farci, fra virgolette, perdonare dagli alleati la partecipazione alla guerra nazista era un paese in grandi difficoltà economiche era un paese che aveva bisogno di riacquistare una credibilità internazionale questa strategia De Gasperi la persegue con una ricchezza di strumentazioni per esempio puntando sul rapporto con gli Stati Uniti d'America anche questa è una peculiarità guardate all'epoca gli Stati Uniti d'America non venivano considerati proprio l'interlocutore migliore per un paese europeo perché si pensava ancora che la Gran Bretagna sarebbe stata sia pure sul mandato americano il gestore della situazione europea così non sarebbe stato ben presto De Gasperi fu uno di quelli che intui viceversa anche perché non aveva grande simpatia per gli inglesi intuì subito che la pedina su cui puntare era quella americana ma intuì anche che non si poteva gestire questa operazione se non nell'ambito di una ricostruzione di una dimensione plurinazionale che era quello che ci voleva per contare cosa aveva a disposizione De Gasperi in più di quello che noi abbiamo oggi aveva una cosa cioè una predisposizione dell'opinione pubblica all'idea che si fosse di fronte a una necessità di rinascita guardate secondo me la più grande differenza che c'è tra l'oggi e l'allora è che oggi noi siamo in un paese che non ha nessuna speranza di rinascita purtroppo nella grande opinione pubblica è un paese che corre allegramente verso lo sfascio e che pensa di accelerare con lo sfascio la rinascita mentre allora lo sfascio c'era già stato era lo sfascio della guerra i fascisti avevano proposto questa idea dello sfascio come rigenerazione nel 22 però la gente aveva toccato con mano come poi era andata a finire l'aveva toccato con mano in Italia l'aveva toccato con mano in Germania e avendola toccato con mano come possiamo dire c'era una specie di beh lì non lo facciamo più ci siamo già scottati le mani una volta questo purtroppo è un sentimento di cui noi oggi non disponiamo magari per fortuna perché non è bellissimo uscire da una catastrofe però è un fatto molto rilevante De Gasperi di fronte a questo che cosa intuisce? intuisce diverse cose guardate anche qui non possiamo avere un'immagine appunto così un po' fumettistica di questa storia i tre uomini di confine De Gasperi che era un trentino che aveva sull'Austria Adenauer che era un renano quindi un tedesco un po' anomalo Schumann che era un alsaziano e quindi veniva a sua volta a una zona di confine tutti i tre parlavano tedesco per cui potevano intendersi direttamente senza l'interprete e quindi si immagina di costruire questo tutti i tre sono cattolici essendo cattolici vogliono fare l'Europa cattolica è una rappresentazione oleografica e insomma molto poco vera Adenauer non aveva avuto esperienza di impero multinazionale Schumann diciamo men che meno perché la Chasse era sotto la Germania in una condizione abbastanza difficile tutti e tre avevano interessi nazionali abbastanza diverse posizioni abbastanza divergenti che cosa li univa univa soprattutto De Gasperi e Adenauer l'idea che la ricostruzione per due paesi vinti come erano l'Italia e la Germania non poteva passare se non attraverso una rilegittimazione in un contesto molto più vasto Adenauer e anche De Gasperi intuirono che per di più questa operazione doveva essere realizzata all'interno di che cosa? all'interno di quello che allora era il quadro delle relazioni internazionali che era quello che era cioè Italia, Germania, Francia erano strutturalmente saldamente all'interno di quello che si sarebbe chiamata l'alleanza occidentale e ormai la guerra fredda era partita ormai non esisteva più il sogno sul quale si può discutere sul giusto e sbagliato che però era stato il grande sogno negli anni 30 quello della grande alleanza progressista pochi riflettono sul fatto che quando il partito comunista italiano per combattere le elezioni del 1948 sceglie il nome di fronte popolare lo fa nella illusione di rilanciare quel fronte popolare quello che in Francia e in Spagna aveva unito non soltanto le sinistre tradizionali i comunisti socialisti ma anche le altre forze progressiste in Italia questo non riuscì proprio perché il partito comunista in quel momento non riuscì a uscire dai confini della stessa alleanza di fatto della stessa alleanza fra comunisti e socialisti e non riuscì soprattutto perché Stalin non voleva prima di questa operazione c'è la famosa riunione del Comitem nella Polonia ormai occupata in cui Stalin condanna ufficialmente gli italiani e fa condannare perché lui personalmente non c'è gli italiani e i francesi proprio su questa idea non c'è il fronte popolare noi non siamo un partito che deve integrare i progressisti noi siamo il partito della fra virgolette rivoluzione è chiaro che Stalin fa questa operazione perché non vuole che nell'est che sta occupando e che di lì a poco diventerà una satellite sovietica non vuole che nessuno si illuda di poter fare delle alleanze di fronte ampio ma vuole il partito unico come l'Unione Sovietica però di fatto questo diciamo così blocca anche una possibile evoluzione del comunismo occidentale De Gasperi quindi si rende conto che in questa situazione l'unica opzione possibile è un'opzione all'interno di quella che diventerà l'idea atlantico-occidentale che oggi a distanza di anni può essere molto messa in discussione rivista puntualizzata eccetera ma che in quel momento è l'unica strada possibile perché l'altra strada che gli propongono anche all'interno del suo stesso partito le sue sinistre interne il neutralismo viene considerata una ipotesi non percorribile perché ridurrebbe l'Italia forse nel migliore dei casi a una specie di piccola svizzera ma ben di più e secondo me in questo De Gasperi che era un uomo politico molto raffinato nelle analisi aveva capito che questo aveva aperto la via che cosa alla possibilità di manovre per ridare fiato alla destra da parte ovviamente di quelle forze che non tolleravano l'idea che nel campo occidentale ci potessero essere delle deviazioni e noi stiamo dimenticando questo aspetto alle elezioni del 48 la destra raccoglie il 5% dei voti o di te capirai il 5% dei voti beh nel 48 il 5% dei voti era tantissimo era una destra ex fascista ex come dire insomma pesantemente compromessa col vecchio regime adesso gli archivi stanno aprendo stanno vedendo gli stessi uomini della destra continuano a bussare alle porte degli alleati dicendo guarda diciamo noi potete fare conto su di noi invece che sugli altri quindi questo è un dato forte da tenere presente cioè l'Europa per De Gasper non è soltanto il problema ideale di ricostruire l'impero di Carlo Magno poi tutti i politici usano un po' di retorica e questo va benissimo ma è un'idea molto più concreta è il problema di dire noi come facciamo a ricostruire un sistema in cui la democrazia possa avere delle solite basi perché questo non è un continente con delle basi democratiche solidissime ragazzi perché non è un uomo che ha una fiducia come possiamo dire infinita nella tenuta dei sentimenti popolari quindi bisogna ancorarli in qualche modo per ancorarli bisogna ancorarli anche sul livello internazionale per fare questa operazione bisogna entrare all'interno di uno schema dentro questo schema bisogna fare i conti con la realtà e una parte dei conti con la realtà sarà il problema di coinvolgere la Francia in questa operazione naturalmente guardate da questo punto di vista sarà un piccolo disastro perché la CED cioè la Comunità Europea di Difesa fallisce perché fondamentalmente i francesi non la fanno passare non è che fallisce per chissà quali altre ragioni però in quel momento ci si rendeva tutti conto che era molto difficile creare questa operazione se non accettando che cosa accettando che il paese che aveva più di tutti mosso il problema della egemonia in Europa fra virgolette cioè la Francia perché la Gran Bretagna aveva sempre detto l'Europa è un'altra cosa noi siamo un impero marittimo vasto a noi basta che l'Europa non ci faccia problema poi insomma ti è un po' a casa sua diciamo l'anti-europeismo britannico non è una cosa inventata ieri mattina è una cosa che ha radici molto lunghe in un sentimento di estraneità rispetto a quello che loro chiamano il continente e quindi De Gasperi si muove su questa linea che è una linea difficile e che è una linea sulla quale certamente scusate c'è un problema per lui il problema è quello di trovare una classe dirigente che gli venga dietro su questa cosa che gli venga dietro con la stessa forma di lucidità perché naturalmente chiaro poi voglio dire soprattutto a quelli che comandano i seguacci non mancano mai si spassano per la strada però il problema è avere della gente che ti viene dietro con la testa non ti viene dietro con l'opportunismo e quindi questo mancò un po' De Gasperi che era appunto come giustamente ha scritto sua figlia un uomo solo un uomo che aveva poche come dire poche volontà di coltivare relazioni molti anni fa quando fece la ricerca su De Gasperi di Trentino trovai una lettera di un dirigente dei giovani universitari al vescovo di Trento in cui rispondeva al fatto che il vescovo di Trento si lamentava che De Gasperi avesse fatto non mi ricordo quale operazione e questo gli schiava ma lei lo sa eccellenza come ha fatto l'Alcide l'Alcide non parla con nessuno fa quello che vuole lui non condivide diremo oggi e questo era un po' l'idea insomma questo era un po' il personaggio però non c'è dubbio che questa è stata una grande intuizione d'altro canto che cosa dimostra questa vicenda e qui finisco perché insomma lascio ovviamente il giusto spazio degli altri cosa dimostra questa vicenda dimostra l'intuizione dell'uomo politico che scommette sul tempo lungo io non credo che De Gasperi fosse appunto anzi sono sicuro che De Gasperi non era una persona che si illudeva che l'unità europea sarebbe fatta nel giro di pochi anni avremmo risolto tutto e via ma aveva questa idea che come si diceva una volta nella civiltà contadina in cui lui pure era nato se vuoi che un albero cresca prima lo devi seminare e poi la paziente deve aspettare che venga su non c'è niente uno dei drammi secondo me della politica contemporanea è che noi abbiamo perso questo tipo di saggezza contadina che era l'idea che la natura ha i suoi tempi e l'uomo non dispone dei tempi della natura noi invece siamo in una civiltà di tipo meccanico industriale fra virgolette in cui i tempi vengono decisi da chi fabbrica chi fabbrica e decide in quanto tempo si fa una macchina poi ci sono certo un po' di contingenze che ti limitano però tutto sommato sui tempi li controlli il contadino sa che il tempo non lo controlli e possono sempre succedere cose che non sai quali sono quindi Gasperi all'interno di questo lancia un discorso che va oltre la sua persona e che va oltre anche questo fallimento oggettivo che fu la comunità europea di difesa la quale peraltro se mi posso permettere col seno di poi ma sapete gli storici ragionano sempre col seno di poi perché non è che uno fa storia col seno di allora col seno di poi non è stato neanche un disastro così grande perché se il discorso fosse andato nell'idea di creare il famoso esercito comune europeo probabilmente visto come si sta orientando la guerra fredda saremmo tornati a una forte preminenza della gestione politica del confronto diciamo così muscolare con la controparte con l'Europa orientale quindi con certi tipi di rapporti con gli Stati Uniti e vi dicendo il fatto invece di aver dovuto rilanciare questa cosa sul terreno dell'economia nell'immediato ebbe un significato molto più importante e molto più grande perché dava modo di scommettere su quello che fino a mi prometteria 5 anni fa era stato il punto di forza dell'Europa cioè il fatto che il benessere era legato a una dimensione sufficientemente grande naturalmente la crisi con cui ci confrontiamo oggi è una crisi banale ed è il fatto che dopo aver detto a tutti che l'Europa significa benessere nel momento in cui il benessere non c'è più la gente dice bene è finito anche il significato dell'Europa ma questo credo non sia una colpa che noi possiamo fare dei gasperi è una colpa che possiamo fare a noi che siamo stati poco capaci di riprendere le sue bandiere grazie grazie io adesso darei la parola a Florian Ardelli qualche giorno fa sempre parlando di De Casperi Romano Prodi sottolineava questo aspetto diciamo di come fosse rimasto sostanzialmente aperto da allora il tema che era poi l'approdo nei tempi lunghi naturalmente che la saggezza di allora sapeva contemplare dell'unità militare e sovrapposta a questa dell'unità politica dell'Europa ecco era si poteva diciamo così ci sono delle ragioni strutturali che erano vive allora e che possiamo rintracciare ancora oggi in questa impossibilità per l'Europa di darsi una come dire un'unità che non sia soltanto economica e monetaria e che cosa dell'ascito di De Casperi ci aiuta a decifrare i buchi neri di questo percorso grazie direttore io sarò molto rapida e vi racconterò alcune cose rispondendo naturalmente alla provocazione del direttore Menichini ma che vi spiegano anche la difficoltà di dar conto della complessità dell'immagine di De Casperi che vi ha dato correttamente Paolo Pombeni nel 2004 quindi dieci anni fa ricorrevano i 50 anni della morte di De Casperi e quel 2004 è un po' un discrimine nel ricordo nello studio che di De Casperi si è fatto nella raccolta delle fonti come Paolo sa bene perché l'ha vissuta un po' sulla sua pelle ed io anche perché quell'anno in quell'anno si riprendono si riprende a studiare De Casperi andando a cercare e a ripubblicare quelle che sono i discorsi gli atti parlamentari le lettere tutta una serie di materiali straordinari che erano sparsi che era difficile raccogliere e come istituto Sturzo che io ho diretto per molti anni il nostro contributo si risolse in un triplice intervento che devo dire ha dato dei risultati molto interessanti e di cui vi confesso sono ancora oggi orgogliosa perché si decise di fare un portale che raccogliesse il titolo era De Casperi e l'Europa tutto quello che di De Casperi e su De Casperi c'era nelle biblioteche e negli archivi dell'Europa e anche degli Stati Uniti per cercare di metterlo a disposizione di un pubblico più ampio rispetto a quello degli addetti ai lavori che si era occupato di De Casperi e per cercare di affrontare la figura di De Casperi in una maniera più attenta rispetto a quegli stereotipi di cui vi ha parlato Paolo Pombeni cioè De Casperi Schumann i padri d'Europa e Adenauer e poi la contrapposizione rispetto al funzionalismo di Monet eccetera quindi un lavoro più serio sulle fonti ma un lavoro attento alla divulgazione quindi il doppio discorso accanto a questo e fu una cosa estremamente interessante quel portale adesso quest'anno viene rifatto perché voi sapete che questi sono degli strumenti che devono essere continuamente monitorati aggiornati dieci anni fa non era banale raccogliere in un portale tutto questo materiale oggi lo è molto di più accanto a questo si decise di riprendere la casa museo la casa dove De Casperi era nato a Pievettesino che è un piccolo paese del Trentino austriaco allora al confine sul Veneto e di farne una casa museo così come in Europa c'erano quelle appunto di Schumann di Adenauer eccetera e anche su questo punto si innestò una discussione estremamente interessante in istituto che è quella di cui voglio darvi conto il terzo la terza decisione fu di legare alla casa museo il 19 agosto di ogni anno che è l'anniversario della morte di De Gasperi una lezione magistralis affidata di volta in volta una serie di studiosi protagonisti personaggi importanti sono state raccolte queste lezioni hanno aperto una serie di fronti che ancora oggi secondo me sono particolarmente significativi per realizzare la casa museo il gruppo che sedeva all'istituto Sturzo intorno al tavolo delle riunioni di quelle giornate era composto da Gabriele De Rosa da Pietro Scoppola da Francesco Traniello da Rudolf Lille da Jean-Dominique Duran cioè da tutto quel mondo che in una maniera o nell'altra si era occupato e si occupava di cattolici in politica e di De Gasperi in particolare perché era estremamente interessante perché la complessità di questa figura di cui Pombeni vi ha detto che ha attraversato veramente tutto il secolo da ridare a un pubblico di non addetti ai lavori naturalmente era particolarmente complesso e le discussioni che nascevano erano significative perché erano interpretazioni di quello che di De Gasperi era stato particolarmente significativo e importante questo voi lo capite bene tenete conto che quando De Gasperi nel 54 muore De Gasperi era nato nell'81 Sturzo era nato nel 71 per darvi un'idea di quanto questi personaggi hanno vissuto delle cose che hanno visto di come le loro storie si sono incrociate di come le asperità di due personaggi nati uno a Pievetesino e uno a Caltagirone hanno comunque segnato la storia di questo paese e del cattolicesimo in politica ma di questo paese sicuramente bene quello che era estremamente interessante era capire cosa mettere in luce cosa tirar fuori a Pievetesino si decise di partire ovviamente da quello che era determinante per De Gasperi ma che fu determinante anche per il suo europeismo cioè l'esperienza terrificante della guerra Pievetesino fu distrutto dalla prima guerra mondiale il Trentino fu distrutto dalla prima guerra mondiale Trento era confine fra l'Austria e l'Italia la popolazione venne portata in parte in Austria in parte in Italia uscirono da quella guerra con una povertà spaventosa con condizioni di vita terrificanti e De Gasperi questo lo sentiva sulla sua pelle quindi nel momento in cui negli anni 50 propone l'Europa e vede l'Europa come uno sbocco fondamentale lo vede prima di tutto come l'eliminazione di quello che è il rischio della guerra questo secondo me noi non possiamo dimenticarcelo mai questo resta sullo sfondo e è fondamentale e tenete conto che De Gasperi parla per la prima guerra mondiale tenete conto che lui è parlamentare del Parlamento Austriaco in quel momento e lui va nei campi profughi gli italiani che sono mandati allontanati dal confine vengono alloggiati in quelle che sono case di baracche sono i villaggi di baracche che poi diventeranno tristemente famosi perché nella seconda guerra mondiale saranno il nucleo centrale dei campi di concentramento ma il modello è quello delle case di legno ci sono delle foto straordinarie di quel periodo e ci sono straordinarie le note di De Gasperi che va e racconta le condizioni di vita dei suoi concittadini quindi vi dicevo quello che è interessantissimo per lui è come lui parla in quel momento dell'ora di Dio con un linguaggio fra l'altro con delle immagini che sono di straordinaria forza proprio per darci il senso di che cos'è anche dal suo punto di vista la guerra il tentativo in quel momento è anche di superare e da lì parte una riflessione de Gasperiana sull'idea di nazione e sull'idea di stato è inutile che ci soffermiamo adesso su cose di questo genere ma è fondamentale perché lui sviluppa un'idea particolare di nazione da questo punto di vista la chiama una coscienza nazionale positiva e è l'esperienza dell'autonomia del Trentino piccola patria italiana da un lato ma parte dell'impero austro-ungarico dall'altra quindi un concetto di straordinaria modernità che torna e questa è la prima cosa che allora si decise di mettere in risalto nella Casa Museo questo cioè il principio della guerra e questa idea particolare di nazione che De Gasperi ha e di sovranazionalità che tornerà sul discorso europeo faccio un salto per spiegarvi come partendo da qui si arriva a un'ultima considerazione che io considero essenziale perché è il discorso che lui tiene all'Assemblea del Consiglio d'Europa del dicembre 1951 e che mi consente di rispondere a quello che mi ha chiesto il direttore Menichini perché De Gasperi dice se possiamo dare fin d'ora questa visione costruttiva e luminosa dell'Europa evidentemente potremo attirare le masse ispirare loro il necessario slancio ideale e soprattutto conquistare gli spiriti delle giovani generazioni europee la costruzione degli strumenti e dei mezzi tecnici le soluzioni amministrative sono senza dubbio necessarie e noi dobbiamo essere grati a coloro che se ne assumono il compito queste costruzioni formano l'armatura rappresentano ciò che lo scheletro rappresenta per il corpo umano ma non corriamo il rischio che si decompongano se un soffio vitale non vi penetri per vivificarle oggi stesso se noi costruiremo soltanto amministrazioni comuni senza una volontà superiore vivificata da un organismo centrale nel quale le volontà nazionali si incontrino si precisino e si animino animino in una sintesi superiore noi rischieremo che questa attività diventi appaia nel confronto della vitalità nazionale particolare senza calore e senza vita ideale potrebbe anche apparire a un certo momento una sovrastruttura superflua e forse anche oppressiva in questo caso le nuove generazioni prese dalla spinta più ardente del loro sangue e della loro terra guarderebbero la costruzione europea come uno strumento di imbarazzo e di oppressione in questo caso il pericolo di involuzione è evidente c'era dunque già la consapevolezza di che cos'era di quali erano i rischi e di qual era quello che bisognava in realtà tenere vivo De Gasperi ce l'ha questo ce l'ha gli viene da una serie di percorsi di spessore che si porta dietro gli viene da dall'idea del personalismo cristiano di Maritain gli viene da da un'idea per cui la comunità europea e l'Europa deve essere animata da uno spirito di cittadinanza da un'idea di cittadinanza che secondo lui non secondo lui ma che noi non siamo riusciti a mettere a punto gli viene da un'altra serie di riflessioni che secondo me sono estremamente importanti che sono quelle che tornano in queste idee de Gasperiane che abbiamo cercato allora di mettere in luce un'ultima considerazione non voglio prendere troppo tempo un'ultima considerazione particolarmente importante il ruolo di caposcuola che De Gasperi ha svolto Paolo Pombeni vi ha detto non c'è stata una classe politica che abbia saputo portare avanti le idee di De Gasperi è vero De Gasperi ha avuto nell'ultimo periodo della sua vita poi questa consapevolezza triste di essere lasciato solo tenete conto che quando De Gasperi muore muore con il problema della CED che di lì a poco si risolve che subito in pratica si risolve in maniera pesantemente negativa De Gasperi non è più segretario del partito non è più presidente del consiglio si sente isolato si sente tagliato fuori ha investito lui Fanfani della sua successione e l'ha fatto con un discorso di grandissimo spessore di grandissima apertura però è tagliato fuori quindi la sofferenza di De Gasperi c'è ma tenete conto che De Gasperi fin dal momento della sua morte viene percepito da questo paese come una delle grandissime figure il funerale di De Gasperi di cui c'è un filmato straordinario fatto dalla Spess dà la percezione di che cosa è stato il muro di folla che ha accompagnato il treno che portava la barra di De Gasperi a Roma quindi c'è questa consapevolezza e c'è questa consapevolezza anche comunque nei suoi avversari in un confronto duro che c'è tenete conto che nel 55 cioè un anno dalla sua morte noi abbiamo Togliatti che accusa De Gasperi di conservatorismo di fanatismo di incomprensione del movimento socialista di chiusa incapacità di comprendere situazioni e movimenti nuovi e arriveremo e poi dopo Togliatti tutta una serie di storici invece Candeloro eccetera e arriveremo al 2004 quando invece Roberto Gualtieri rileggerà la storia di questo paese dando a De Gasperi conto di quello che è stato il valore delle scelte che sono state fatte naturalmente riflessioni che poi ha ripreso Beppe Vacca in una delle lezioni proprio a Pieve Tesino in cui c'è un confronto una rilettura di straordinario interesse di quello che è De Gasperi il rapporto fra De Gasperi e Togliatti le incomprensioni ma anche i motivi di stima le valutazioni le grandi scelte fatte nonostante tutto insieme in alcuni momenti cruciali della storia di questo paese quindi c'è questa percezione di qual è stata l'importanza di De Gasperi come vi dicevo De Gasperi è stato studiato fin dall'inizio attraverso una serie di studi una serie di raccolte però è dal 2004 che accanto a questo lavoro di cui vi ho parlato poi è stata fatta una raccolta di fondamentale importanza sono quattro volumi con dieci tomi il professor Pombeni ha curato questa operazione voluta dalla provincia di Trento che raccoglie in un corpo straordinario tutta quella che è la produzione dei discorsi De Gasperiani delle riflessioni De Gasperiane rimane fuori ancora tutto il pezzo dell'epistolario che è un pezzo di straordinaria importanza anche quello che speriamo ci auguriamo Paolo ovvero che venga messo a disposizione degli studiosi sì lo so lo so è uno dei motivi per cui gli studiosi di De Gasperi soffrono di questa di questa mancanza ancora di questa situazione però ecco quello che mi preme dirvi è che nelle carte che sono raccolte all'istituto Sturzo voi avete anche la dimostrazione o la testimonianza di come queste idee di De Gasperi non siano andate perdute perché nelle carte Gonella nelle carte di Piero Malvestiti nelle carte di Scelba nelle carte di tutto quel mondo che a De Gasperi faceva riferimento la sua interpretazione di nazione la sua interpretazione di Europa rimangono come come punto dominante che guida questa visione e che arriva fino ai nostri giorni quindi riprendiamo questo discorso di De Gasperi cercando di coglierne naturalmente tutte le sfaccettature tutte le problematicità le drammaticità anche ma tenendo conto che questa scelta De Gasperiana credo si sia rivelata l'unica scelta vincente che noi abbiamo potuto fare in quel momento per il nostro paese grazie grazie prima di dare la parola a Michele Gotor Roberto Speranza mi faceva segno che per lui è arrivato il momento oltre il quale poi dopo non può più stare con noi sarà sarà un grande piacere cedere le conclusioni di questo nostro incontro a Pierluigi Castagnetti che voglio ringraziare in modo particolare per essere qui con noi così come ringrazio il professor Pombeni Miguel Gotor e Flavia che chiaramente è un nostro deputato quindi è molto più di casa io voglio spiegare in qualche istante il senso di questa operazione che stiamo facendo noi siamo impegnati in questo anno 2014 a ricordare e provare a rileggere a molti anni di distanza tre personalità di grandissimo profilo che hanno dato tanto al nostro paese che sono poi stati un po' anche simbolici di un'epoca politica e che sono tutti da ricordare in questo 2014 per un anniversario siamo stati a Rovigo poche settimane fa a ricordare Giacomo Matteotti siamo nel 2014 a 90 anni dalla tragico assassino fascista e dentro la lettura di quel personaggio chiaramente c'è un pezzo della nostra identità politica di quella battaglia antifascista durante all'inizio del del ventennio abbiamo iniziato a ricordare la figura di Enrico Berlinguer di cui ricadono i 30 anni dalla morte lo abbiamo fatto qualche giorno fa e con oggi ricordiamo un altro personaggio di grandissimo profilo io penso che non siano ricordi di maniera non siano ricordi retorici ma sia il tentativo del più grande gruppo parlamentare del paese di provare a mettere fin in fondo radici in una storia di cui siamo in qualche modo orgogliosi e di cui sentiamo un'appartenenza e lo facciamo a partire appunto dai nostri numeri noi abbiamo qui 293 deputati 181 alla prima legislatura e io penso che proprio un gruppo fatto così cioè un gruppo con tanto cambiamento tanta innovazione tantissimi giovani sotto i 35 anni ma anche tantissime donne per la prima volta in questa legislatura abbia ancora di più bisogno di provare a costruire un contatto con questo nostro passato e voglio provare a dare un punto di vista perché sarebbe difficile diciamo voler leggere in profondità personalità di questo livello e sono ho ascoltato le due relazioni sono convinto che anche le altre due saranno della stessa qualità c'è un punto vero che secondo me tiene insieme queste tre personalità che vi ho prima citato e che significa io penso la lezione più profonda per una generazione più giovane e cioè la capacità da parte di queste figure di costruire in tempi diversi un avanzamento democratico nel nostro paese e io penso che la questione di attualità di queste figure politiche può essere declinata proprio a partire da qui in un momento difficile in cui io ritengo che il grande tema sul tavolo sia esattamente quello della democrazia in tempi diversi Matteotti De Gasperi e Berlinguer hanno rafforzato la democrazia nel nostro paese lo si diceva prima nelle relazioni che abbiamo ascoltato in modo particolare all'uscita della seconda guerra mondiale la grande funzione nazionale dei partiti che forse in parte oggi si è dispersa è stata esattamente quella di connettere il popolo la gente le persone spesso lontane appunto dalle istituzioni democratiche allo Stato se c'è una grande funzione che io riconosco ai grandi partiti di massa la democrazia cristiana il partito comunista il partito socialista in quella fase io penso che sia stata esattamente questa costruire una connessione profonda tra cittadini e istituzioni democratiche in un momento in cui questo non era scontato e allora l'attualità oggi di queste straordinarie personalità io penso appunto a De Gasperi è quella di provare a dare una lezione alle generazioni più giovani su come costruire un rapporto nuovo tra cittadini e istituzioni democratiche in un tempo in cui purtroppo siamo ad una nuova rottura di questa relazione io lo sto dicendo in una campagna elettorale difficile in una campagna elettorale che ci vede assolutamente impegnati sui territori nelle nostre iniziative nelle nostre proposte politiche mai come oggi si ha la sensazione di una nuova rottura tra cittadini e politica io la sto dicendo con queste parole anche un po' troppo dure se vogliamo ma si ha la sensazione caro Pierluigi che per una parte significativa dei cittadini comuni della gente che incrociamo quotidianamente fuori dai palazzi della politica le istituzioni democratiche vengano percepite non come il luogo e lo spazio dove si trovano soluzioni ai problemi dei cittadini ma come se stesse parte dei problemi che quotidianamente i cittadini incontrano e dico queste cose non con leggerezza ma con assoluta preoccupazione perché se tu pensi che il Parlamento è un pezzo del tuo problema del problema della tua vita quotidiana il passaggio successivo possibile che fai nel ragionamento e che forse del Parlamento puoi fare a meno io penso che questo è il passaggio storico politico a cui noi siamo ed è rispetto a questo che ricordare le straordinarie personalità di un tempo che non c'è più di un tempo passato non è solo apprezzabile opera storiografica ma è anche diciamo una lettura di analisi rispetto ad un'azione politica da mettere in campo e qual è il nostro obiettivo l'obiettivo di fondo al quale siamo chiamati attualizzare quella lezione e capire come con un'iniziativa politica vera quotidiana in Parlamento come nei nostri territori si può invece ricostruire questa connessione ricreare condizioni per una relazione positiva tra politica e cittadini e qui voglio dirlo con forza la grande partita delle riforme è una partita che si legge dentro questo scenario noi non è che vogliamo riformare il senato o le autonomie locali oppure la legge elettorale semplicemente perché c'è diciamo un vezzo di qualcuno no perché riteniamo che a partire da una spinta riformista vera si possa ricostruire quella relazione tra politica e cittadini quante volte abbiamo detto mille deputati sono una cosa che è legata ad un'epoca storica che non esiste più nel 46 aveva senso avere una fiammella in ogni pezzo di paese per andare da casa mia a Roma in quei tempi ci volevano 12 ore probabilmente vale lo stesso per Flavia oggi non è più così ma siamo noi nelle condizioni come sistema politico come sistema dei partiti di dimostrare ai cittadini che siamo nelle condizioni di realizzare riforme che risegnino in una connessione e questo dobbiamo farlo sul piano istituzionale e dobbiamo farlo sul piano economico e sociale ora non mi è consentito un ragionamento troppo lungo ma anche la grande questione europea va letta esattamente in questo senso io penso che per troppe fasi per una fase troppo lunga dal mio punto di vista abbiamo consumato una retorica europeista che ha finito per alimentare esattamente il campo degli anti-europeisti allora oggi il nostro messaggio non è un messaggio facile perché è un messaggio a difesa dell'Europa in un tempo in cui va invece di moda essere contro l'Europa e il nostro messaggio che non è né nero né bianco cioè il messaggio di chi dice un'altra Europa non è un messaggio facile da far passare però la sfida di questo tempo io penso che stia esattamente qui allora questo percorso che abbiamo voluto avviare di cui sono abbastanza orgoglioso e ringrazio non solo i tanti parlamentari presenti ma anche i nostri uffici l'uffici del gruppo alla Camera che stanno accompagnando in maniera assolutamente positiva questo percorso serve secondo me a questo ricordare grandi personalità del nostro tempo per segnare una traiettoria che sia a difesa di quella grande cultura democratica che unisce queste straordinarie personalità grazie grazie Roberto Speranza io sono sono sicuro che Miguel Gotora diciamo ha tratto dalle cose che sono state dette fino adesso molti spunti io non volevo però offrire un ennesimo andando a riguardare i termini perché parlavamo di conflitti politici in cui molto forti che accompagnavano le fasi storiche di cui stiamo parlando andando a guardare i termini di quei conflitti in particolare degli scontri politici che si svolgeva in Italia certo in quel momento segnato in maniera determinante indelebile dalla guerra fredda dalla contrapposizione dall'espulsione delle sinistre dal governo eccetera eccetera però per quanto riguarda il tema europeo si ritrovano dei termini dello scontro e del dibattito sorprendentemente costanti nel tempo perché anche allora il disegno dei Gasperiano veniva contestato in Italia dalle sinistre allora come un'operazione sostanzialmente contro l'interesse nazionale e spinta dai interessi estranei a quelli dell'Italia che allora appunto erano quelli della guerra fredda e dell'allineamento europeo diciamo così al disegno americano e per certi aspetti questo 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 tipo di contestazione poi dopo nel corso del tempo si è riprodotta addirittura tu sei uno storico in particolare diciamo attento e specializzato su 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 quegli anni fino addirittura negli anni 70 ancora nella discussione nella polemica per esempio nell'ingresso dell'Italia nel sistema monetario europeo di nuovo allora il partito comunista le sinistre dopo un percorso che era stato fatto nel frattempo per carità straordinario tornavano a contestare quella scelta politica sostanzialmente con lo stesso argomento cioè andiamo a fare andiamo a entrare in un percorso che non è nel nostro interesse e che fa il gioco di poteri extranazionali e quindi abbiamo un po' una condanna mi pare che è quella di trovare rispetto al progetto dell'Europa e al rafforzamento del progetto dell'Europa politica sempre una stessa contestazione diciamo così che si pretende di ancorarsi a interessi nazionali e in qualche modo quello che ne fuoriesce è che le scelte che dobbiamo fare sono sempre fatte esprimo una frase che in questo periodo va molto di moda perché ce lo chiede l'Europa cioè sempre dobbiamo farlo perché l'Italia si deve in qualche maniera costringere e legare le mani da sé perché da sola non riesce a fare le scelte necessarie mi colpisce questa costante e non vorrei che forse una forzatura mia diciamo di cronista politica o diciamo dell'epoca contemporanea volevo sentire anche cosa pensavi tu anche da questo punto di vista sì grazie buongiorno a tutti e vi ringrazio per questo per questo invito sia la domanda del direttore Menichini sia l'intervento di speranza mi hanno così stimolato una prima una prima riflessione certamente oggi l'anti europeismo è alimentato da una crisi economica che sta assumendo tratti strutturali e invita invita al rafforzamento di forze di forze antisistema che scelgono quindi nell'anti europeismo una battaglia popolare purtroppo e dal consenso rapido speranza sottolineava che sia una sfida tipica del nostro tempo l'obiettivo di provare a riconnettere cittadini a istituzioni e società politica e da questo punto di vista sono più inquieto e al tempo stesso sereno e non è un paradosso perché so che questa è la sfida perenne la sfida perenne che gli italiani sono obbligati a condurre gli italiani di buona volontà se io devo infatti indicare un carattere originario della storia italiana e guardate mi riferisco anche a una storia italiana preunitaria bene è proprio nella presenza di purtroppo nuclei ristretti ma comunque sempre presenti di classi dirigenti che si sforzano a ristabilire questa connessione una connessione tra piazza e palazzo la metafora del palazzo è una metafora che negli anni settanta fu riportata in auge da Pierpaolo Pasolini ma in realtà noi la ritroviamo classicamente espressa in una pagina di Guicciardini in cui spiegava come appunto tra il palazzo e la piazza scrive lui vi è una gran nebbia che bisognerebbe diradare il carattere originale dell'Italia o uno dei caratteri originali è proprio in una contestazione strutturale in cui pulsioni di carattere popolare si incontrano con luci di disegni delle classi dirigenti a disarticolare la politica e a disarticolare il rapporto appunto che c'è tra società e istituzioni e oggi noi credo con un errore prospettico siamo portati a ritenere che in Italia sia esistita un'età d'oro dei partiti guardate che non è così e se è stato così è un'esperienza veramente piccola qualche anno negli anni sessanta che coincide tra l'altro e non è un caso con il più grande periodo di espansione economica e civile del nostro paese ma altrimenti sia prima che sia dopo abbiamo una egemonia sostanziale di ciò che oggi chiamiamo antipolitica che Gramsci ad esempio chiamava apoliticismo una tendenza delle classi popolari italiane all'apoliticismo che si sposava con una tendenza delle classi dirigenti alla consorteria e al farsi cricca e appunto abbiamo come elementi originari l'antipolitica lo spirito di fazione e forme che si sono articolate in modo diverso ma che costituiscono un discorso continuativo di antiparlamentarismo e di extra parlamentarismo che certamente accompagnano la storia d'Italia dalle sue origini dal 1861 se voi prendete oggi andando in un'emeroteca qualunque giornale a caso degli anni 70 o degli anni 80 o precedente ma voi troverete che il discorso egemone dominante lo dico con cognizione di causa perché l'ho fatto ecco beh è incentrato sulla corruzione è incentrato sulle clientele è incentrato sul ruolo degenerativo delle correnti nei partiti e e hai diciamo che forse oggi è un po' sfumato ma comunque è stato presente certamente è stato presente nel ventennio che abbiamo alle spalle è una dialettica che ha poco di una democrazia normale e cioè non una dialettica tra avversari ma una dialettica di sistema tra amici e nemici dove l'altro da te come dire ha una diversità che si vorrebbe anche antropologica o comunque di ordine di ordine di ordine morale questo lo dico anche per incoraggiarci eh oggi certamente assistiamo io credo soprattutto in forza e per ragione della crisi economica e di un affanno che le democrazie rappresentative stanno vivendo un affanno guardate che è anche dovuto a uno straordinario privilegio che ormai sta diventando addirittura millenario cioè noi stiamo vivendo il più lungo periodo di pace nella democrazia che l'Italia ha avuto modo ha avuto gli italiani hanno avuto in sorte di vivere allora naturalmente la pace eh aumenta la possibilità della dialettica democratica ma ma anche ma anche può indirettamente o anche direttamente comunicare un'idea di affanno di lentezza di stanchezza delle procedure insomma ci si dimentica dell'aspetto più importante che la democrazia è bella perché consente la massima critica al proprio interno e poi si inizia a rimpiangere sempre solo e soltanto quando non c'è più quando evapora per quanto riguarda per quanto riguarda diciamo l'oggetto l'oggetto dell'intervento dell'intervento che che ho preparato a me è sembrato e mi è sembrato che fosse utile ne ho parlato ne ho parlato con con Castagnetti quando appunto mi ha invitato a partecipare a questo convegno che fosse utile raccontare o mettere in evidenza la presenza di De Gasperi l'ombra o il fantasma di De Gasperi nelle riflessioni che Aldo Moro fece nel 78 durante la sua prigionia nel memoriale il memoriale è un testo che è giunto a noi in formati strani diversi censurati mutili ma ecco in ogni caso stiamo parlando di circa 250 fogli in cui Moro un po' rispondendo alle domande dei suoi sequestratori e un po' da un certo momento in poi affidando un proprio testamento morale civile del proprio percorso politico ecco si sofferma si sofferma in diversi punti su De Gasperi secondo me con l'obiettivo politico di lasciare traccia di un'idea e cioè che il vero erede di De Gasperi di quel De Gasperi sconfitto perché poi questo è stato un altro tratto comune della vita politica italiana che si ha grande consenso popolare e come dire si diventa autorità morale però come dire la precondizione è aver subito una sconfitta politica o un isolamento politico Moro sembra dirci il vero erede di De Gasperi sono stato io sono stato io con il mio centrosinistra negli anni sessanta sono stato io che diversamente da Fanfani da un Fanfani che Moro descrive tra virgolette come un piccolo De Gaulle affascinato e preso da programmi e progetti presidenzialisti ecco invece il vero erede sono stato io nella misura in cui mi sono sostituito mi sono sostituito a Fanfani e ho e ho proseguito l'ispirazione della sua politica e nel suo memoriale Moro si sofferma sul periodo della costituente sottolinea il rapporto di straordinario fair play scrive fair play che ci fu con Togliatti con Lapira con Basso con Marchesi con Dossetti un periodo fattivo collaborativo in cui aveva imparato lui allora giovane tra i professorini la pratica dell'ascolto e il senso del limite e riconosce che di quella stagione proprio De Gasperi scrive è stato un leader indiscusso in una stagione in cui la successione tra gruppi dirigenti avviene con facilità nell'ambito della stessa matrice cattolica e senza accanite lotte di potere in un periodo in cui la DC la DC che sta nascendo ha un carattere più religioso che laico dove c'è più fede scrive Moro che arte politica e in cui l'obiettivo l'obiettivo è quello di di aggiornare la vecchia e superata dottrina sociale cristiana ormai rapida evoluzione e di aggiornare la luce del codice di Malin e di quello di Camaldoli dare alla proprietà di cui allora si parlava ancora con un certo rilievo un'autentica funzione sociale sviluppare in armonia con la tradizione popolare del partito una politica nella quale davvero gli interessi popolari fossero dominanti e una dottrina sociale della chiesa fondata sulla proprietà ma con una precisa funzione sociale è interessante come Moro vive in modo traumatico la stagione e la frattura del 47 48 che interpreta come la rottura di un clima di collaborazione civile e politica che è dovuta al mutare del quadro internazionale non da fattori interni secondo la sua analisi ma dal mutazione del quadro internazionale e dalla stringente necessità economica dell'Italia e ricorda il viaggio che De Gasperi nel gennaio del 47 fa a Washington e dice c'è chi fa riferimento come punto di inizio di questo cambiamento al viaggio di De Gasperi a Washington ma io ero troppo giovane inesperto ed estraneo alle cose per dire perché esso fu fatto e con quali conseguenze ricordo solo la mia trepidazione anche perché forse troppo giovane alla prospettiva di mutamento del quadro politico del quadro politico guardavo con preoccupazione tanto più che c'era appunto un quotidiano e disteso contatto in seno alla prima commissione della Costituzione con Togliatti Basso Lapira Dossetti mutava e c'era una mutazione della condizione e questa mutazione dava la sensazione della vastità dell'operazione politica che De Gasperi aveva deciso di compiere e per la quale aveva l'assenso di molti e importanti io ne ero francamente sbigottito e anche preoccupato per quanti avrebbero potuto esservi coinvolti ne parlai con il ministro della giustizia e gli dissi sinceramente le mie esitazioni per il paese soprattutto per il dissesto che minacciava di derivarne ma la cosa era ormai avanti io cosa di nessun rilievo dato alla mia giovane età mi astenni alla votazione ma mi rimase il senso di una cosa grossa che veniva e che avrebbe pesato nel corso del tempo Moro successivamente fa un accenno al discorso che De Gasperi tenne il primo giugno del 1948 quando presentò e si presentò alla Camera dei Deputati per annunciare il suo nuovo governo il governo che era il risultato della grande vittoria del 1948 una vittoria che non era stata soltanto di carattere numerico spiega Moro ma che segnava una nuova egemonia politica e Moro notava come De Gasperi avrebbe potuto fare avrebbe potuto governare da solo ma sceglie in quella circostanza comunque di dare vita a un governo di coalizione un governo di coalizione che consentisse a De Gasperi stesso e alla democrazia cristiana un maggior agio e una maggiore autonomia rispetto al Vaticano e io vi vorrei leggere brevemente 4-5 righe di questo discorso di De Gasperi del primo giugno del 48 in cui lui descrive i caratteri di fondo della sua democrazia cristiana che sono caratteri interclassisti antifascisti innovatori e riformatori ma lascio parlare lo stesso De Gasperi la democrazia cristiana si presenta così non come un blocco informe ugualmente aperto a tutte le influenze più contraddittorie ma per la consapevolezza dei suoi quadri direttivi e organizzativi per l'adesione cosciente dei suoi militanti come un partito innovatore e progressista che attinge le sue ispirazioni alla scuola cristiano sociale un movimento che rappresenta una parte cospicua di lavoratori della terra e dell'industria e ne interpreta e accompagna il cammino ascensionale una corrente solidarista che ha però cura soprattutto dei ceti medi e delle classi popolari ecco e mi avvio a concludere Moro in questa definizione De Gasperiana nel momento più alto del successo di De Gasperi il De Gasperi che parla alle camere nel momento della sua investitura presidente del consiglio dopo la vittoria del 48 in questa definizione la democrazia cristiana come partito innovatore e progressista ecco Moro puntò molto puntò molto e ci puntellò nel suo memoriale poi anche il passaggio che porterà al centro-sinistra ci sono dei brani un brano in particolare che è dedicato alla crisi del centrismo in cui Moro sottolinea il fatto che l'ADC inizia a diventare un'altra cosa portando con sé quell'isolamento di De Gasperi di cui abbiamo accennato come partito che si trasforma in un partito clientelare di clientele con la cristallizzazione in correnti organizzate ritorna sul punto su base clientelare un partito dice che progressivamente diventa questo è molto attuale io credo partito di opinione nel quale le cose in un partito di opinione non si progettano e vengono realizzate ma semplicemente avvengono per la forza delle cose per iniziativa spontanea perché la gente si assesta e si muove da sé un partito poi Moro concede un partito che è stato in grado di trasformare la malleabilità della sua vocazione dice a programmatica cioè non di partito di programma ma appunto di partito di opinione che segue si adagia ai flussi popolari ha avuto la capacità di trasformarla in un punto in un punto di forza ecco allora e chiudo vi dicevo che Moro anche dopo il 48 anche dopo l'analisi di quanto è avvenuto nel 48 ritorna sul tema che nel corso della stagione del cosiddetto centrismo continuò con il segretario del PC Palmiro Togliatti un fair play semplicemente perfetto fino al 53 quindi includendo tutta la parabola politica di De Gasperi in seguito cominciarono le fasi più politiche quelle che portarono alla elaborazione della strategia del centro-sinistra che si affacciava scrive Moro come fatto non eludibile si iniziava così lo spostamento verso sinistra dell'asse politico del paese anche per l'insistenza dei partiti intermedi e per robuste ragioni politiche delle quali ogni osservatore sereno non può disconoscere la validità una strategia che non sarebbe stata possibile senza la matrice de Gasperiana che nel 48 avete visto aveva appunto definito la democrazia cristiana come partito progressista e innovatore con un'anima interclassista e antifascista naturalmente c'erano anche gli avversari anzi c'erano soprattutto gli avversari a questo disegno e i modi con cui sono stati sconfitti sia de Gasperi sia Moro sono certamente certamente diversi ma ecco che pur sottolineando questa diversità si ha la sensazione che il problema che hanno dovuto affrontare entrambi in tempi diversi è stata proprio l'opposizione l'opposizione di quegli avversari che che non volevano non volevano in diversi momenti una democrazia cristiana partito popolare che guardasse a sinistra ma invece vagheggiavano altri rapporti altri allineamenti e altre e altre e altre coalizioni e e questo questo l'hanno fatto anche su questo chiudo con una pratica della violenza politica che non appari che non appari nella storia italiana e anche molto soffiando e molto strumentalizzando quella tendenza all'extraparlamentarismo e all'antiparlamentarismo da cui sono partito e che ha proprio questa funzione ha la funzione sempre veramente dal 1861 in poi di stabilizzare il quadro politico a destra e vi ringrazio grazie mi sembra che per Luigi Castagnetti e le sue conclusioni ci sia molta materia prego io credo sì stamattina è emerso parecchio della strategia di Gasperiana è molto interessante anche in quest'ultima lettura che ha fatto Miguel Gotor attraverso il memoriale io penso che Moro ha ragione potesse ritenersi l'erede di De Gasperi per per tanti motivi e tenta di alleggerire anche la sua condivisione se ho capito bene in quel passaggio nella scelta delle scelte internazionali di De Gasperi anche se lui era sottosegretario agli esteri in quel periodo ma soprattutto io penso che questo tentativo di dire io per la mia giovane età insomma c'ero non c'ero fosse determinata dalle circostanze in cui queste dichiarazioni vengono fatte perché in effetti se penso alle fasi successive insomma la rottura con Dossetti avviene proprio in quel periodo proprio sulle scelte di politica internazionale ma veniamo al tema di oggi insomma perché secondo me ha avuto senso e quindi io sono grato al gruppo del Partito Democratico di avere promossa questa iniziativa ha avuto senso parlare in questo momento storico di De Gasperi e l'Europa perché vedete io ho l'impressione che per tante ragioni il merito dell'avvio del processo di integrazione economica in un primo tempo e politica ancora in corso dell'Europa abbia un patronage molto importante in Italia l'ambasciatore belga in Italia definì in quel frangente De Gasperi le chef spirituelle della coalizione internazionale e il capo spirituale era l'ispiratore più convinto e allora bisogna capire perché è stato l'ispiratore più convinto quindi noi dobbiamo rivendicare questo ruolo dell'Italia all'origine del processo di costruzione dell'Europa anche perché col manifesto di Ventotene del 1940 insomma c'era stata la teorizzazione del federalismo europeo e De Gasperi ebbe un ruolo molto importante con i federalisti con il movimento federalista europeo sin dal tempo del fascismo attraverso Stefano Iaccini che aveva rapporti in Svizzera ma poi successivamente al punto che nel primo congresso di Montreux del movimento federalista europeo Spinelli di fatto condivide tutte le scelte di politica estera di De Gasperi compresa quella più importante che era la collocazione dell'Italia la collocazione politica dell'Italia nell'area occidentale perché vedete io credo che De Gasperi sarà ricordato dalla storia per tante ragioni perché ha dato una forma politica elettorale ai cattolici perché ha unificato non riunificato ha unificato perché non era unito per la prima volta il paese perché ha ricostruito il paese ma soprattutto perché ha gestito questa operazione che veramente era un'operazione difficilissima in quel contesto storico post-Yalta la collocazione politica quella militare era già avvenuta a Yalta quella geografica era nelle cose la collocazione politica dell'Italia nell'Occidente ed è difficile capire la scelta europeista di De Gasperi se non si parte da questa prima constatazione e perché insomma una scelta complicata è anche una scelta che finirà per essere di rottura con il partito comunista ma Beppe Vacca ci ha dimostrato che in un qualche modo c'era una complicità di Togliatti in questa scelta che non poteva condividere che anzi ha osteggiato fino in fondo ma non ve dubbio che vi era una complicità nel senso che a un certo momento Togliatti come De Gasperi capì che la scelta internazionale della democrazia cristiana rendeva impossibile la continuazione dell'esperienza di governo sia da una parte che dall'altra vi era la convergenza di un giudizio di questo tipo la rottura del tripartito avvenne nel momento in cui dopo il viaggio in America e dopo quell'articolo brutale sull'unità di Togliatti come sono cretini che aveva destato una reazione comprensibilmente negli interlocutori statunitensi e insomma diventava inevitabile questa rottura perché le scelte erano scelte che portavano oggettivamente a una incompatibilità politica in quel momento ma quel passaggio è un passaggio che è stato gestito in termini anche meno drammatici di quanto si potesse ritenere nel mezzo dell'assemblea costituente con decisioni assunte dentro all'assemblea costituente perché la ratifica di quei trattati anche degli accordi avvenne in assemblea costituente che fungeva anche inevitabilmente da assemblea parlamentare in quel momento e insomma è evidente che lo scontro politico era molto forte ma all'interno dell'assemblea costituente fu nobilitato da dei discorsi molto importanti perché vedete allora la politica era soprattutto politica estera perché in quei primi anni si discuteva soprattutto di politica estera dentro i partiti e fra i partiti ed è comprensibile perché si trattava di definire la geografia politica del mondo in quel momento e l'Italia doveva decidere se essere attore o se essere spettatore di questo processo che era un processo molto complicato ma questo per tante ragioni ma l'Italia fu costretta a giocare la carta delle scelte internazionali anche per il fatto che mai le condizioni come 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 disse l'ambassiatore Canali mai le condizioni di un paese sotto tutti i profili dipendevano da da una collaborazione esterna all'Italia da un aiuto internazionale sia la condizione economica l'Italia era al tappeto dopo la seconda guerra mondiale con il dimezzamento dal 38 al 45 delle potenzialità del nostro sistema industriale del nostro sistema agricolo con l'esplosione della disoccupazione insomma lo spettro del diciannovismo era lì ecco la preoccupazione che potesse ricrearsi un clima di questo genere ma c'erano ancora delle partite aperte sul piano internazionale e noi eravamo un paese sconfitto non è che potevamo dettare legge che era quella del Tirolo e quella di Trieste e che in un qualche modo evocavano da parte del governo De Gasperi una grande iniziativa sul piano internazionale e De Gasperi costruì il suo ruolo la sua grandezza politica proprio sul piano internazionale e anche la sua autorevolezza sul piano interno venne costruita dai riconoscimenti che ebbe sul piano internazionale perché dopo l'assemblea a Parigi tutto è contro di me insomma da quel momento cominciò una fase in cui anche i paesi vincitori alleggeriscono moltissimo gli oneri del paese vinto Italia e al punto che insomma diventiamo un destinatario privilegiato del sostegno economico prima con l'ERPA poi col piano Marshall fummo il primo paese che aderì al piano Marshall e entrò all'Italia in quel momento nel comitato esecutivo dell'OEC dove c'erano solo i paesi vincitori più l'Italia all'inizio quindi questi furono successi straordinari che in un qualche modo avevano invertito la condizione di isolamento in cui si trovava il paese è del tutto evidente che la scelta europeista quindi dell'Italia va inserita in questo contesto e anche il realismo di Spinelli che era uomo di sinistra non era sicuramente uomo vicino alla democrazia cristiana non solo condivideva la scelta che a quel punto era federalista di De Gasperi De Gasperi partì all'inizio con una posizione che non era immediatamente favorevole all'alleanza con l'Occidente fu tra i sostenitori della neutralità armata anche De Gasperi cioè pensava che un paese vinto come l'Italia con la situazione interna che aveva l'Italia non potesse fare delle scelte così decisive così definitive e parlò di neutralità armata che voleva dire è il massimo di collaborazione che noi possiamo dare agli occidentali di più non possiamo fare poi la situazione è evolse in una misura tale per cui l'Italia comincia ad avere dei successi sul piano delle relazioni internazionali aiuti che vengono utilizzati per la ricostruzione del paese e induce questo processo persino stavo dicendo uno come Altiero Spinelli a prendere atto molto realisticamente che nelle condizioni date De Gasperi non poteva fare altrimenti per cui Spinelli comincia a mettere a disposizione sul piano dell'elaborazione culturale tutte le sue idee a De Gasperi e al rappresentante italiano ad esempio all'interno dell'Assemblea della Ceca e a sostenere la strategia di De Gasperi dentro l'Assemblea della Ceca per la costruzione della CED anche nei momenti più difficili per cui Spinelli riconoscerà a De Gasperi di aver fatto quello che nelle condizioni date era possibile dare fare allora questo aiutò moltissimo De Gasperi che era una copertura morale politica nel momento in cui non poteva avere quello ufficialmente della sinistra nel senso del partito comunista e del partito socialista aveva sul cammino europeo questa copertura che era una copertura molto importante e poi bisogna capire appunto che De Gasperi in quel momento aveva il bisogno il gruppo ha giustamente stampato il discorso al senato ai giovani l'Europa e ai giovani di De Gasperi che è una pietra miliare della sua cultura europeista in cui sostiene la tesi sì voi mi accusate di che questo è un mito l'Europa è un mito certo è un mito scelgo questo mito che cosa volete proporre ai giovani il mito del nazionalismo no questo mito che supera la dimensione nazionale perché De Gasperi arriverà a parlare di un investimento fideistico sull'Europa un mito fideistico sappiamo che cosa vuol dire la fede e sottolineava questo aspetto perché aveva in un qualche modo da combattere un nemico e da combattere un competitore il nemico era la cultura nazionalistica cioè noi uscivamo dall'esperienza del fascismo non potevamo consentire che si ricreassero le condizioni ecco di di una cultura nazionalistica che che pervade questo il dibattito politico italiano bisognava liberare l'Italia dalla tentazione del nazionalismo noi ne avevamo bisogno più di ogni altro paese e siccome quello era un mito negativo bisognava costruire un mito positivo e il mito positivo era quella della sovranazionalità non delle relazioni fra governi ma di una sovranità sovranazionale sovranazionale e la cosa che colpisse a leggere i libri anche quelli recenti quello di Acanfora in particolare è la coralità del gruppo dirigente democristiano nella convinzione che questa strada dovesse essere percorsa noi siamo soliti ritenere che è una scelta personale di De Gasperi è vero che la gestione delle relazioni internazionali è fatta in prima persona da De Gasperi ed è fatta anche contro le resistenze interne di una parte della chiesa e di una parte della democrazia cristiana le sinistre interne quella gronchiana e quella dossettiana che non erano certo d'accordo su questa impostazione anche una parte del Vaticano però la sua abilità è stata quella di costruire un'adesione corale per cui e Campilli e Iaccini e Igino Giordani anche deputati insomma che avevano un'autorevolezza morale ma non un grande peso politico ma poi Taviani Gonella che avevano anche peso politico parlassero tutti la stessa lingua e cioè era necessario superare la dimensione nazionale e puntare a quella sovranazionale il mito dell'Europa era il mito della nuova patria europea e ci fu un'opera di pedagogizzazione dell'opinione pubblica per quanto si potesse in quei momenti pedagogizzare l'opinione pubblica ma l'idea era quella di utilizzare tutte le strutture del periferico e del partito per convincere per convincere non solo i militanti ma anche gli altri che era veramente una speranza una prospettiva di futuro quella di passare alla sovranazionalità ecco la dimensione della sovranazionalità ma con questa operazione De Gasperi in un qualche modo si ricollega anche alla cultura fondativa del vecchio partito popolare insomma perché Sturzo nel 36 nel libro che fece sulla guerra di Spagna parlava già di federazione degli Stati Uniti d'Europa quindi era una roba che e a un certo momento aderise all'idea sturziana e in questo caso c'è un momento di polemica con Spinelli perché Spinelli era in quel momento in polemica con Adriano Olivetti perché pensava a un processo federativo che partisse dal basso i comuni messi insieme fanno le province le province messe insieme fanno le regioni le regioni messe insieme fanno lo Stato nazionale gli Stati nazionali messi insieme fanno la sovranità europea mentre invece Spinelli pensava che questo fosse un percorso troppo lungo mentre invece De Gasperi aderisse a quest'idea ma soprattutto con questa operazione De Gasperi aggancia definitivamente i partiti della tradizione risorgimentale perché lui si collega direttamente a Mazzini quindi recupera il risorgimento attraverso Mazzini e quindi fa un'operazione veramente geniale dal suo punto di vista perché in un qualche modo getta le basi culturali di quell'unica coalizione di governo che sul piano interno si riusciva a realizzare in quel momento e quindi questo è il merito secondo me importante di De Gasperi e poi andrebbe per le lunghe ma adesso è ora di finire voglio finire con una valutazione su qua è stato definito sconfitto sì non è riuscito nella CED io sono anche molto intrigato dall'osservazione di Paolo Pombeni a questo riguardo che considero tutt'altro che banale molto molto seria ma io non direi non lo definirei sconfitto non per perché De Gasperi per molti versi è stato sconfitto insomma adesso è vero che ha scelto lui Flavia ha scelto lui il successore Fanfani ma insomma aveva capito che era la fine insomma erano passati solo sette anni non è che ne fossero passati settanta ecco e aveva ricostruito l'Italia messo insieme avviato il processo europeo insomma capisce che bisogna fare le valigie insomma al congresso di Napoli e quindi si è autorottamato ecco per usare un termine prima di esserlo formalmente dalla nuova generazione guardate che aveva un poco più di 40 anni anche quelli lì insomma la storia si riprese spesso insomma ma perché e quindi è vero che per molti versi è sconfitto ma in questa idea che lui ebbe la sua ultima operazione che è quella della CED vedete io ho detto che De Gasperi ha un ruolo importante nell'avvio della costruzione e dell'integrazione europea è vero che formalmente si comincia col piano Schumann con la CECA e De Gasperi in un qualche modo non era ancora pronto per portare l'Italia ecco e quindi all'inizio era più trascinato poi a un certo momento dopo la fine del governo Pleven dopo le difficoltà di non c'era più Schumann al ministero degli esteri eccetera lui capisce che deve prendere in mano il discorso e la CED da un certo punto di vista se fosse riuscita perché non è riuscita era il capolavoro di De Gasperi perché l'articolo 38 dello statuto della CED vedete ha in nuce tutti i problemi e tutte le risposte tutte le soluzioni le chiavi di soluzione ai problemi che l'Europa avrebbe avuto anche lui capiva che la costruzione di un esercito europeo era difficile era rischiosa c'era addirittura un deputato un generale che faceva il deputato della DC che disse ma insomma come si fa a fare un esercito manca l'unità spirituale e il patriottismo europeo un esercito come fa senza l'unità spirituale del continente e senza una fede patriottica ecco è un esercito europeo e questa preoccupazione c'era vedete l'accostamento con il presente con l'euro serve perché noi sappiamo che quando si vuole dar vita a una sovranità sovranazionale una sovranità sovranazionale noi sappiamo che i simboli della sovranità sono la spada cioè l'esercito lo scudo cioè la moneta la bilancia cioè la giustizia allora loro partirono arditamente dalla spada però capivano che se non si fosse stati in quel momento anche un'integrazione politica lasciare l'esercito eventualmente così costituita in mano ai generali senza un governo politico alle spalle non funzionava quello che si è capito di meno quando abbiamo ripreso il discorso della sovranità europea con l'euro che non si poteva e allora nello statuto della CED lui fa inserire l'articolo 38 che è un po' incasinato perché è molto confuso ma sostanzialmente il presidente della CECA che presideva l'assemblea che doveva approvare e ratificare lo statuto della CED allarga l'invito all'assemblea a altri nove componenti perché c'è da definire come dar vita al potere politico subito per non far nassere un esercito da solo subito la stessa operazione che bisognava fare con l'euro non lo chiama assemblea costituente perché i francesi la chiamano assemblea ad hoc ma era un'assemblea costituente degli Stati Uniti d'Europa era un'assemblea costituente siamo arrivati lì a definire quella che era anche se si chiamava in modo diverso l'assemblea costituente degli Stati Uniti d'Europa tutto questo per dire che insomma quella generazione pensava le cose con un'intelligenza politica insomma obiettivamente eccezionale insomma ecco e non è stato sconfitto De Gasperi da un certo punto di vista nel senso che aveva visto tutto quello che occorreva lo è stato perché a partire dall'assemblea nazionale e forse se fosse stato portato in ratifica anche nel Parlamento italiano sarebbe successa la stessa cosa e De Gasperi capì che questo era il problema che questo statuto faceva fatica ad essere ratificato dai Parlamenti nazionali perché era un'accessione veramente grande di sovranità quella militare e scrisse cinque giorni prima di morire quella lettera accorata a Fanfani in cui gli chiede di fare l'ultimo sforzo anche dopo il voto contrario dell'assemblea nazionale francese per tentare di recuperare una operazione che era l'operazione a cui lui si era dedicato negli ultimi anni totalmente ecco ma in questo senso credo che abbia avuto un significato importante l'iniziativa lo dico a Oriano Giovannelli che l'ha organizzata una iniziativa del gruppo per ricordare come noi centriamo con l'origine del processo europeo grazie a tutti arrivederci ciao ciao ciao